Primo appuntamento del campionato ACI eSport Turismo 2023, siamo con le TCR, siamo con l'Audi e siamo nella magnifica pista di Monreale. La scopriamo insieme, staccata di curva 1, poco prima del cartello 1, terza marcia, tanto cordo all'interno, breve allungo dove si torna sul gas, seconda marcia, terza poi ad aprire il volante per fare percorrenza in curva 2. Breve allungo che ci porta alla prima chicane, si stacca al cartello 1, terza marcia in ingresso, quarta in uscita, curva 4, curva 5 che arriva adesso, curva 6, là in fondo, seconda opportunità di sorpasso di questo tracciato, terza marcia, si aggancia l'interno del cordolo, poi terza qui, quarta, subito per evitare il wheel spin e quindi che la macchina allarghi troppo. Si sfrutta tutta la percorrenza, si lascia allargare la vettura anche sull'esterno del cordolo, il tappetino rossa. Staccata di curva 8, seconda, terza, opportunità di sorpasso, pardon, terza marcia anche per la percorrenza, si sfrutta tutta la salsiccia bianca all'interno del cordolo. Allungo in uscita da curva 9 che ci porta là in fondo alla curva 10, altra opportunità di sorpasso per il tornante del casino. Si stacca al cartello dei due, seconda marcia, si aggancia al cordolo interno, si aspetta il momento giusto per dare gas, altrimenti la macchina alza il muso, parte sottosterzo e non gira più, oltre a non trasmettere a terra la potenza. Allungo del rettilineo del casino, si porta là in fondo all'ultima opportunità di sorpasso, alla chicane del muro dei campioni, a curva 13 e 14, si stacca qui al cartello dei tre, terza marcia o quarta dipende come sia più confident, si salta tantissimo sul cordolo, si sfrutta tutta l'uscita a baciare anche il muro dei campioni. Ecco un giro del circuito titolato Agile Villeneuve.